Ciao Richard, questo è un video di risposta alla violenza nei videogiochi So che è un video molto vecchio ma avendolo riguardato proprio oggi ho deciso di risponderti appunto con un video Dandoti il mio parere, io sono d'accordo con quello che hai detto Ho perso molto la voglia di giocare ai videogames elettronici che ci sono adesso per PS3 o cagate varie Essendo io sempre stato un appassionato di giochi come Ratchet & Clank, Donkey Kong, Crash Bandicoot Comunque giochi che erano divertenti e magari ti insegnavano anche qualcosa E appunto sono d'accordo con te nel fatto che i videogiochi di adesso siano solo violenti e diseducativi Termino subito il video invitandoti a passare per il mio canale Ho iniziato da poco a fare video su Youtube ma magari c'è qualche video che potrebbe interessarti Secondo me sei diciamo il migliore tra i video tra gli Youtuber Io seguo molti Youtuber ma avendo una passione anche io per il disegno i tuoi video sono i migliori secondo me Mi è piaciuto molto il video che hai fatto quando, non mi ricordo il titolo Tu ti alzavi dalla sedia e c'era una ragazzina che si innamorava della propria gomma E mi ha commosso davvero tanto, è stato bellissimo Termino subito il video, ti ringrazio e ciao